ciao a tutti ragazzi volevo fare questo video per spiegare un po come si fa questo intro sapete tutti è l'intro di iso pazzi neonamide allora sono molte note molto semplici e ho preso la chitarra classica non è una ventana classica questa no la chitarra acustica perché il suono viene molto molto più armonico allora ragazzi per fare questo intro iniziamo con la nota re allora sappiamo tutti che è la seconda corda e andiamo a toccare con il terzo video della mano sul terzo tasto quindi iniziamo questa nota poi subito dopo viene il mi ultima corda a vuoto quindi poi dopo mi abbiamo sempre l'ultima corda il sol terzo dito sempre sul terzo tasto uno due e questo è il terzo tasto quindi dopo facciamo il mi cantino dopo il mi cantino abbiamo di quindi dopo il re viene il si cioè la seconda corda a vuoto dopo abbiamo un movimento un po di un po più difficile che prendiamo la corda solda il secondo tasto con il primo dito cioè l'indice e andiamo a fare uno scivolamento sulla terza sul terzo tasto quindi questo questo scivolamento verso il terzo tasto dopo dopo questo scivolamento abbiamo la corda a vuoto sol quindi dopo il sol abbiamo dobbiamo pizzicare sulla quarta corda secondo dito però quindi il medio che andiamo a pizzicare sul secondo tasto alla quarta corda dopo il mi abbiamo sempre sulla quarta corda a vuoto il come sappiamo tutti che è il re e poi inizio la canzone con il minore quindi